Sì, ma allora intanto grazie non soltanto all'amministrazione, anzi Indaco e a tutti coloro che ci hanno consentito di essere qui oggi, Alessandro Alens che è l'organizzatore di alcune delle parti di questo festival che sono più di intrattenimento realisticamente moderno, perché chiaramente stiamo interpretando quello che era il fine ottocento, ma basti pensare che stiamo parlando del periodo delle rivoluzioni industriali, delle nascite del cinema, di quelle che erano le storie di Giulio Verne, eccetera, eccetera. Quindi venire qui come disegnatore di produzione cinematografica e teatrale ed essere presenti è soltanto un piacere e un onore. Abbiamo portato alcuni dei lavori a cui stiamo partecipando come compagnia, la Procaccia Entertainment, appena nata in Italia, e speriamo di poter essere presenti anche alle prossime edizioni, già si parla del 2019, quindi perché no, con alcuni dei nostri design, o proporre progetti ad Urbino, che è la terra natale di uno dei maestri, perché chiaramente quando l'incipit è incommensurabile, come quando si parla di Raffaello Sanzi. Production designer è una parola che sta diventando di utilizzo comune, perché adesso tante accademie, tanti college, ma tante anche università cominciano a creare centri di design, si specializzano proprio in questo. Disegnatore di produzione è l'ingegneria e l'architettura del cinema o del teatro, cioè quando arriva uno script vengono portate soltanto delle parole scritte su un foglio bianco di carta e sta a noi cominciare ad interpretare quello che il regista o l'autore o lo scrittore decide di portare in scena, quindi se ci chiedono che so il nuovo costume per quel personaggio, lo cerchiamo di interpretare in chiave visiva, che è fondamentale per il cinema e teatro. Se noi pensiamo che un team per un progetto cinematografico oggi di media grandezza è intorno alle 250-300 persone, ma quando si parla di un grande progetto parliamo di team di più di 3.000, 4.000, 5.000 persone, è chiaro che è bello poter partecipare a progetti della Disney, come della Marvel, come di Star Wars, che comunque fa sempre parte dell'egita della grande famiglia Disney, perché chiaramente c'è un concetto ormai di monopolio delle grandi major. Quindi siamo onorati e felici di essere una nuova compagnia che già viene presa in considerazione, anche se sono ormai 28 anni che faccio questo lavoro.